la polizia del commissariato di vittoria sta indagando sulle causa del decesso di un neonato avvenuto ieri sera all'ospedale Guzzardi l'aspe di Ragusa intanto ha aperto un'indagine interna mentre la cartella clinica è stata sequestrata la corte d'appello di Catania ha condannato i tre veterinari dell'aspe che erano stati invece assolti in primo grado coinvolti nel processo canichiller a seguito della morte del piccolo Giuseppe Brafa venuta nel 2009 a San Pieri ultima parola adesso alla Cassazione il presidente della commissione sanità all'arte Pippo Di Giacomo in sopralluogo questa mattina presso la struttura di fisiochinesi terapia di Ispica Di Giacomo ha incontrato il sindaco Muraglia e l'aspe intanto ha firmato una delibera per individuare i nuovi locali Grangala ieri sera al Kiki Village per i 50 anni di Aias Catania evento organizzato dai centri di riabilitazione CSR Aias della provincia Iblea musica ricordi e riconoscimenti perché a contribuire ad abbattere le barriere architettoniche Buon pomeriggio ben trovati alla prima edizione di MTG così come avete appreso dai titoli parliamo di un caso che è successo ieri sera all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove una ragazza vittoriese di 28 anni ha perso il neonato il piccolo nato morto la polizia sta accertando la dinamica dell'evento intanto ha già sequestrato la cartella clinica mentre l'asp ha fatto sapere il manager Maurizio Aricò ha avviato un'indagine interna tutti i dettagli da Viviana Sammito lei ha 28 anni e di Vittoria e della nono mese di gravidanza la sua prima gravidanza aveva accusato dei dolori lancinanti all'addome era pronta a partorire ma ieri sera il neonato è nato morto all'ospedale Guzzardi di Vittoria momenti di tensione tra medici e familiari si sono vissuti al nosocomio tant'è che è dovuta intervenire la polizia che ha accertare lo stato di salute del bimbo in grembo fino al momento dell'ingresso nella sala parto le cause certe della morte potranno essere stabilite se la procura deciderà di fare eseguire l'edopsia sul corpicino o dopo la querela da parte della famiglia e quindi accertare se c'è stata imperizia da parte dei medici l'aspa ha fatto sapere il manager Maurizio Ricò stamattina ha preso la notizia ed è stata avviata un'indagine interna il direttore generale ha inviato una nota agli interessati chiedendo tutti i dettagli sull'itere sul caso clinico della paziente e del neonato la procura potrebbe aprire un fascicolo prato dovuto con l'ipotesi di reato di omicidio colposo al momento non ci sono indagati cinque anni ed un mese di reclusione ciascuno e la condanna della corte d'appello di catania nei confronti dei tre veterinari dell'asp coinvolti nel processo cani killer a seguito della morte del piccolo giuseppe brafa avvenute il 15 marzo del 2009 a san pieri frazione balneare ciclitana i tre medici in primo grado erano stati assolti confermata invece la sentenza nei confronti di virgilio giglio mentre l'ex sindaco di cicli giovanni 25 la corte d'appello ha ridotto la condanna cinque anni e nove mesi di reclusione tutti i dettagli in questo servizio la corte d'appello di catania stravolto la sentenza di primo grado che riguarda i tre veterinari dell'asp di ragusa coinvolti nel processo sulla morte del piccolo giuseppe brafa sbranato dai cani randaggi il 15 marzo del 2009 incontrata fisciotto a san pieri la corte d'appello di catania dunque ha condannato a cinque anni e un mese di reclusione antonino avola roberto turla e saverio agosta che in primo grado erano stati assolti i tre avrebbero omesso di segnalare all'asp la presenza di cani aggressivi per loro le accuse erano dunque di omissione dati d'ufficio e omicidio colposo i tre veterinari dell'asp sono stati condannati anche a pagare 700 mila euro alle parti civili e l'interdizione perpetua dei pubblici uffici la corte d'appello di catania ha poi ridotto a cinque anni e nove mesi la condanna l'ex sindaco di scicli giovanni 25 accusato di omicidio colposo e condannato in primo grado a sei anni e due mesi di reclusione nonostante sapesse dell'aggressività degli animali non avrebbe preso provvedimenti l'ex primo cittadino era stato anche interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici confermata invece la sentenza nei confronti dell'anziano proprietario del branco virgilio giglio in primo grado condannata a quattro anni e sei mesi di reclusione dunque se in primo grado i tre veterinari dell'asp avola turla e agosta erano stati assolti adesso i rispettivi legali avranno 90 giorni di tempo per preparare il ricorso da presentare in cassazione una sentenza quella della corte d'appello di catania che fa riemergere ancora una volta una vicenda che ha scosso un'intera comunità e che ha portato alla ribalta delle croniche nazionali il territorio ciclitano e in modo particolare quello di san pieri una tragedia che sicuramente si sarebbe potuta evitare considerate le numerose segnalazioni dei residenti sulla presenza di cani randagi a quanto pericolosi e aggressivi in quella zona adesso l'ultima parola sulla vicenda giudiziaria aspetta la cassazione andiamo ad ispica torniamo a parlare del servizio di fisio chinesi terapia sospeso da oltre un mese dopo che in ass hanno rilevato criticità strutturali proprio oggi l'aspa ha firmato una delibera con la quale ha chiarito che per l'individuazione dei nuovi locali si deve accedere ad un bando intanto oggi sopra il luogo del presidente della commissione sanità l'ars pippo di giacomo vediamo risposte e soluzioni in tempi brevi per continuare a garantire il servizio di fisio chinesi terapia ispica sospeso da circa un mese dopo le irregolarità strutturali rilevate dai nas le ha chieste il sindaco pierenzo muraglie che questa mattina dopo il settimane di ieri è tornato nei locali di via mendola con il deputato regionale giuseppe di giacomo presidente della commissione sanità l'ars il quale tra l'altro aveva anche invitato il direttore sanitario dell'asp 7 drago che ha dato forfè l'asp è intervenuta con una sola risposta stamattina una delibera con la quale ha chiesto la pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione dell'immobile dove continuare a erogare il servizio l'asp non intende finanziare i lavori di ripristino al momento dei locali originari né accoglie la proposta del comune che aveva già individuato una struttura il presidente della commissione di giacomo ha preso atto che il personale continua tutte le mattine ad aprire comunque la struttura pur non essendoci i pazienti e che gli stessi pazienti che non possono fare a meno del servizio sono costretti a spostarsi nella sede più vicine che oltre a pozzale rosolini e in quest'ultimo caso il servizio viene reso da un'altra asp quella di sinacusa inammissibile pertanto avanzato un paio di proposte per evitare danni e disagi ancora più gravi come grave è che la responsabile del servizio la dottoressa angelo militello aveva segnalato le criticità ma l'asp non è mai intervenuta in dieci anni certo intanto mi pare che sia stata una cosa opportuna quella di predisporre una deliberazione con un mando pubblico per reperire un locale adeguato quindi insomma che sia conforme a ogni prescrizione e questo da come dire la la possibilità di esercitare per altri 30 anni e 40 anni in locali adeguati questo servizio che è stato individuato a ispiche e in nessun'altra parte proprio perché ispiche baricentrica rispetto a tante altre situazioni cittadine e intanto vedere se ci sono le condizioni in questo periodo di interregno che potrà durare qualche mese in un rapporto leale anche chiaro come dire corretto con le altre istituzioni se si può procedere qui ancora per qualche settimana ancora per qualche mese per non come dire provocare disagio agli utenti perché punto di riferimento di mezza provincia di ragusa ciò che ci preoccupa è la tempistica perché riteniamo che nell'arco di qualche settimana si debba porre fine a questo stilicidio continuiamo a parlare di sanità andiamo a modica torniamo nuovamente a trattare il caso che abbiamo trattato qualche mese fa che riguardava la guardia medica di modica avevamo segnalato un disservizio c'erano stati dei degli utenti che ci avevano chiamato e oggi ci sono delle novità perché un medico che presta servizio proprio in quella struttura e stiamo parlando della guardia medica di modica chiarisce alcuni alcuni aspetti di quella vicenda sentiamo ricordate il caso della guardia medica modica quando la domenica delle palme di notte nessun medico risposa alla chiamata di un utente che stava male bene emergono novità e da quello stesso presidio di via loreto gallinara che arriva un medico gisella di gabriele che venuta a conoscenza del nostro servizio ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda la di gabriele in attività da circa vent'anni lavora dal 2014 in qualità di titolare alla guardia medica di modica non sa come siano andati realmente i fatti quella notte della domenica delle palme ma si è sentita di chiarire che forse la collega o il collega che in quel momento era di turno era crollato fisicamente si crollato perché il lavoro alla guardia medica di modica stando alle dichiarazioni della di gabriele segue una tornazione molto discutibile e che spesso potrebbe avere ripercussioni sulle performance psicofisiche dei medici la di gabriele infatti tentando di chiarire quanto sarebbe accaduto al collega di turno ha evidenziato che i turni potrebbero ledere la qualità del servizio erogato ho più volte messo a conoscenza ai dirigenti della distribuzione iniqua di questi turni anche con il supporto dei miei avvocati come mai avvocati perché più volte ho fatto presente le evidenti criticità di questa turnazione cercando di avere con loro un'interlocuzione ho anche ufficializzato le mie contestazioni con diffide ho fatto anche delle proposte turni che a mio parere erano abbastanza equilibrate ho fatto diversazioni legali ma nulla è cambiato anzi ho dovuto pure giustificarmi per aver manifestato il mio dissenso questo servizio di guardia medica che dovrebbe essere un servizio pubblico è diventato invece un servizio privato e personale alla merced delle due titolari veterani di guardia perché privato è privato perché loro costantemente diciamo che gestiscono i turni in maniera arbitraria in modo da tenere conto solo dei propri interessi personali tutta questa gestione è autorizzata e diciamo da una gestione se vogliamo dire negligente da una gestione incompetente ma soprattutto vessatoria nei miei confronti visto che lei ha già mobilità una battaglia legale nei confronti dell'asp come si è espressa la magistratura e purtroppo anche qui la magistratura ancora non si è espressa perché vi sono stati dei continui rinvii in tal senso quindi non vi è stato un procedimento ancora chiarito spero che sia la magistratura che le autorità competenti possano intervenire il manager dell'asp 7 maurizio ricò non ha presentato la scia ai vigili del fuoco il certificato di inizio attività contravvenendo a quanto dichiarato durante l'audizione con la commissione sanità al comune di ragusa ancora incertezza sui tempi di rilascio del certificato che è propedeutica all'apertura del giovanni paolo secondo oggi è il 21 luglio questa data la ricorderanno gli addetti ai lavori e la classe politica e qualche attento cittadino che da anni attende l'apertura del nuovo ospedale di ragusa giovanni paolo secondo un paio di settimane fa il manager dell'asp 7 maurizio ricò nell'aula consigliare del comune di ragusa dove si era riunita la commissione sanità dell'ars aveva garantito che avrebbe consegnato la scia il certificato di inizio attività ai vigili del fuoco entro e non oltre il 21 luglio oggi la scia non è stata presentata perché i locali del nord non sono ancora a norma il direttore generale dell'asp 7 maurizio ricò che indagato con altri sei soggetti il riferimento a gare d'appalto impianti di climatizzazione di formi dopo il dissequestro delle sale operatori stabilito dal gip andrea reale ha effettuato un sopralluogo con i suoi tecnici e con quelli dei vigili del fuoco che sono intervenuti su convocazione della procura è stata avviata un'indagine e un sopralluogo congiunto durante il quale i vigili del fuoco hanno dato alcune prescrizioni a cui l'asp sta lavorando e che diventano propedeudiche alla presentazione della scia il certificato di inizio attività quando sarà presentata non è in grado di certificarlo neanche il manager ma una cosa è chiara il cronoprogramma è saltato i tempi si allungano dopo due anni di blocco dell'itere di continue decisioni contrastanti riparte il percorso per l'istituzione della nuova supercamera di commercio ragusa catania e siracusa l'assessore regionale alle attività produttive mariella lobello ha convocato il consiglio generale per il prossimo 31 luglio sempre che il governo centrale non abbia da ridire io ho convocato l'assemblea per quanto riguarda la camera di commercio di catania ragusa e siracusa per il prossimo 31 a meno che non ci sia il ministero che la pensi in maniera diversa camera di commercio del sud est si ricomincia è una vicenda ingarbugliata e per certi versi grottesca tra burocrazia decisioni politico oscillanti come un pendolo tra una soluzione e il suo opposto scontri politici e contenziosi giudiziari dopo i tanti stop and go si torna all'inizio sia la supercamera sempre che il governo non riconfermi il suo no visto che in questo momento a fare ripartire l'iter è solo la sua mancata risposta nei 30 giorni previsti dopo la mancata intesa della conferenza stato regioni del 25 maggio scorso sulla proposta di revoca del decreto di settembre 2015 che l'aveva avviato se non ci saranno ulteriori fatti nuovi il consiglio della nuova camera di commercio catania siracusa ragusa si riunirà il 31 luglio alle 10 30 nella sede etnea con all'ordine del giorno l'elezione del presidente sino a questo momento c'era stata una volontà condivisa anche dal governo regionale che andava incontro alle esigenze del territorio dopodiché c'era stata da prima le camere di commercio in maniera assolutamente autonoma i consigli camerali avevano votato l'adesione per una sola camera di commercio come certamente sapete siracusa ha ritenuto che quei criteri penalizzassero il territorio di siracusa dopo quello che avevano avvertito come una sorta di esproprio per quanto riguarda la portualità dopodiché i consigli comunali di tutto il territorio di siracusa avevano manifestato la volontà di non unirsi a catania questa volontà è stata portata in conferenza stato regioni che non ha dato il parere positivo quindi non c'è stata l'intesa e tra i successivi 30 giorni non è venuto da parte del ministero nessun atto noi abbiamo proseguito credo che stiano arrivando in queste ore le note ai singoli componenti allora designati naturalmente la mandiamo anche al ministero se il ministero dovesse avere pareri differente e allora dovrà dirci che cosa si fa l'assemblea è convocata per il prossimo 31 la discarica di capa dei modicani potrebbe proseguire la sua attività in extremis ieri è stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale adesso si attende l'autorizzazione integrata che consentirebbe al sito di abbancare oltre 15 mila tonnellate di rifiuto al momento il sito è fermo perché a mezzanotte scorsa è scaduta l'ultima proroga firmata dal commissario straordinario del libero consorzio comunale di ragusa Dario Cartabellotta della mezzanotte scorsa la discarica di cava dei modicani è ferma l'ultima ordinanza contingente ed urgente firmata dal commissario straordinario del libero consorzio comunale di ragusa carta bellotta è scaduta al momento è stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale ma non l'autorizzazione integrata riguardante il progetto di ampliamento presentato di recente dall'attuale commissario straordinario della srr di ragusa nicola russo che consentirebbe nell'immediato di aumentare la vita della discarica eblea di altri due tre anni con l'abbancamento di 15 mila tonnellate di rifiuti a frenare l'iter i pareri contrari dell'arpa si temono disastri ambientali a causa del percolato che fuoriesce dalla discarica i dati dei controlli effettuati parlano chiaro queste sono ore concitate per il sindaco federico piccito alla ricerca di una soluzione tra le ipotesi una ordinanza per far proseguire il conferimento dei rifiuti il primo cittadino sta incontrando tutte le amministrazioni per comprendere se questa è una strada percorribile oppure potrebbe chiedere alla regione un sito dove poter conferire intanto il sindaco di scicli ha rivolto un invito ai cittadini a ridurre il conferimento nel weekend dopo l'emanazione del governatore della regione siciliana crocetta con cui autorizza nuove comuni a conferire nella discarica catanese di proprietà della sicula trasporti ciò ha ridotto la possibilità di abbancamento per il comune ebleo che da tempo utilizza quel sito la capienza a disposizione passa da 252 a 226 tonnellate la settimana tale situazione di emergenza costringe l'ente ciclitano a ridurre la raccolta nel prossimo fine settimana la raccomandazione è di limitare al massimo la produzione il conferimento nei cassonetti dei rifiuti in attesa che lunedì la regione risolva l'emergenza a catania oggi c'era il sottosegretario all'istruzione gabriele tocca fondi che ha incontrato gli studenti del duca degli abruzzi ha parlato del cambiamento della scuola che può diventare il volano per per l'occupazione soprattutto nel sud italia del progetto la scuola al centro se vogliamo far crescere l'occupazione soprattutto quella giovanile dobbiamo rivedere il sistema scuola che deve certamente cambiare e quanto affermato al sottosegretario di stato il ministro dell'istruzione gabriele tocca fondi oggi a catania ospite di un incontro presso l'istituto duca degli abruzzi e lo stesso esponente il governo gentiloni a spiegare come può cambiare la scuola la scuola deve cambiare non deve snaturarsi italiano storia matematica e geografia ci sono e resteranno i ragazzi sanno benissimo la loro utilità solo che si deve aggiornare oltre alla conoscenza deve entrare prepotentemente anche la competenza o meglio le competenze che il mondo del lavoro esterno o le lingue straniere o il digitale o le competenze lavorative e manuali rappresentano quindi la scuola della conoscenza che diventa e forse meglio dire ritorna a essere anche scuola delle competenze quindi alternanza scuola lavoro apprendistato laboratori il sottosegretario ha poi parlato del progetto scuola al centro che permetterà alle scuole di fare più sport o musica laboratori di lingue teatro innovazione digitale per un totale di oltre un milione di ore di attività aggiuntive da svolgere in orario extrascolastico di pomeriggio nei mesi estivi la sicilia tra le regioni più finanziate sono circa 187 milioni 4.633 i progetti finanziati in Italia quasi 690 i progetti finanziati per le scuole della Sicilia circa 150 i progetti finanziati delle scuole di Catania sono risorse in più che noi diamo alle scuole per restare aperti sia durante i mesi estivi ma solo un 10 per cento circa sia soprattutto l'orario pomeridiano e il sabato anche il pomeriggio in tutta Italia prenderanno al via lunedì i lavori di rifacimento della pavimentazione della strada provinciale 84 che da Scicli conduce ad Arizza a comunicarle l'onorevole Orazio Ragusa dopo aver già reso noto che la regione aveva finanziato con la somma di un milione e 170 mila euro il progetto che il libero consorzio di Ragusa aveva predisposto in proposito finalmente conclude Ragusa avrà ad essere risolta andrà ad essere risolta una situazione che era ormai diventata troppo pesante per chi transitava in quella zona e sono stati completati i lavori per la creazione della rete idrica in via nazionale modica ispica nell'arco di poche settimane la zona è stata finalmente dotata di rete idrica e a breve vedrà l'installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica da lunedì sarà possibile per i residenti inoltrare richiesta per l'allaccio delle proprie abitazioni finalmente abbiamo completato la realizzazione di questa importante opera richiesta più volte dai residenti ha detto il sindaco ignazio abbate gran galà per i 50 anni di aia scatania ieri a chichi villa giù una serata di musica e intrattenimento anche riconoscimenti che per chi negli ultimi 50 anni di aia scatania ha contribuito ad abbattere le barriere tra questi anche gli operatori dei centri csr in provincia di ragusa che quotidianamente curano e assistono centinaia di persone con disabilità tutti i dettagli da già da giacquinta questa è stata e e sarà una settimana importante per tutti noi operatori del csr una settimana che ci ha visto in festa fra catania e via grande grande festa ieri per i 50 anni di aia scatania celebrati in grande stile in una cornice ad eccezione il chichi village il resort turistico di modica totalmente accessibile inaugurato nel 2011 dal consorzio siciliano di riabilitazione per consentire a chiunque di trascorrere le proprie vacanze in totale relax e senza barriere e che oggi accoglie turisti da tutta europa una serata di musica intrattenimento ma anche riconoscimenti per tutti coloro i quali in questi ultimi 50 anni di aia scatania hanno contribuito ad abbattere le barriere nata nel 1967 quando le opportunità di cura e crescita per i disabili erano pochissime grazie alla spinta di famiglie con bimbi disabili la jas etnea ha messo in atto una rivoluzione per i disabili e i loro familiari che nel tempo ha superato i confini catanesi espandendosi in tutta la sicilia aia sinoltre si è fatta promotrice di un percorso che ha condotto alla nascita del consorzio siciliano di riabilitazione stasera penso che saremo più di 600 in effetti perché questa è una grande espressione d'affetto da parte di tutti i nostri assistiti che ci credono ci vogliono bene ci seguono ovunque sicilia ci sono 18 centri del csr più di 3500 dipendenti 5000 assistiti questa è la realtà è un'ondata di amore che c'è per tutta la sicilia all'evento erano presenti tra gli altri il presidente il direttore generale del csr sergio l'ho trovato e francesco l'ho trovato la presidente dell'aias di catania emanuela l'ho trovato e i familiari di giovanni brullo che a ragusa fu artefice della realizzazione dei centri di riabilitazione csr aias inoltre erano presenti il presidente della commissione sanità lars pippo di giacomo il sindaco di modica ignazio abate il sindaco di pozzallo roberto ammatuna e il sindaco di comiso filippo spadaro solidarietà all'ospedale maggiore di modi che il direttore di bruno euronics giorgio moncada ha donato un tablet ad un paziente emigrato ricoverato nel reparto di malattie infettive affetto da gravi patologie respiratorie malnutrizione il paziente costretto a stare a letto ha rifiutato ogni terapia e nonostante le sue gravi condizioni ha chiesto dei giochi per trascorrere il tempo l'insistenza fanno non sapere i sanitari con cui ha domandato il videogioco ha evidenziato uno stress emotivo e fisico di conseguenza gli operatori del reparto hanno chiesto a moncada un aiuto che ha preso a cuore il caso regalando un tablet veglia di preghiera martedì prossimo per i due preti rapiti dai guerriglieri nella diocesi di butembo ben in congo diocesi gemellata con quella di noto la veglia dunque si alle 20 presso il santuario della madonna delle grazie a modi che intanto sulla vicenda interviene anche il sindaco di pozzallo roberto ammatuna auspica una soluzione positiva sulla vicenda i due preti scrive il primo cittadino don charlie borromecchi pasa il vice jean pierre achimali sono stati presi in ostaggio dopo aver assistito alla devastazione e depredazione delle loro parrocchie che ricordiamo sono gemellate con quella di san giovanni e di san paolo a pozzallo tutto pronto per l'amichevole del prossimo 9 agosto che vedrà giocare al massimino il milan contro il real betis stamattina un incontro al comune per presentare l'evento il 9 agosto alle 20 a 45 il milan sarà protagonista di un'altra affascinante amichevole dal sapore internazionale allo stadio massimino di catania infatti rossoleri affronteranno il real betis la partita contro la formazione spagnola arriva al termine dell'international champions cup in cina e dopo i preliminari d'europa league stamattina al comune di catania è stato presentato questo evento e come ha sottolineato l'omonaco un evento che è stato voluto fortemente all'attuale allenatore del milan ed ex del catania vincenzo montella avranno l'opportunità di vedere l'unica amichevole che il milan disputa in italia quindi tutta questa campagna acquisti tutti questi gran giocatori che il milan ha preso avranno la possibilità di vederli dal vivo e qua catania e questa è una cosa che a noi ci riempie di gioia soddisfazione essere espressa anche dalla sindaco ettenneo enzo bianco torna a catania oltre che il grande calcio una persona a cui i catanesi sono molto grati cioè montella che è stato un grande allenatore del catania che nel nostro cuore e a cui la città vuole dire in qualche modo anche grazie e lo farà durante la partita devo dire che sono anche molto contento di vedere anche una città veramente molto migliorata dei primi anni in cui venivo qua e mi fa molto piacere e quindi è stata la nostra prima scelta come ha detto anche il direttore lomonaco anche vincenzo montella ha insistito perché tra le ipotesi che avevamo prevalesse quella di catania insomma quindi siamo tutti molto contenti di venire qui a catania altro nuovo arrivo in casa volley modica si tratta del libero classe 99 giuseppe di luca nato a messina ma ha cresciuto pallavolisticamente a brolo nonostante la sua giovane età può vantare già esperienze in serie b1 dove ha militato per due stagioni nella gloriosa elettro sud volley brolo nell'ultima stagione ha militato in serie c nella pallavolo borgan morgan barcellona con cui ha disputato da protagonista un campionato di vertice vedendo sfumare per un soffio la promozione in serie b nei playoff promozione giuseppe si unisce al gruppo di atleti già a disposizione del coach sgarlata andando a ricoprire un ruolo cardine nella squadra che andrà ad affrontare il prossimo campionato di serie b chiesa di san nicolò inferiore 30 anni dopo si chiama così l'evento organizzato questa sera dal centro studi sulla contea di modica alle venti nella piazzetta grimaldi dopo i saluti del presidente del centro studi sulla contea di modica eugenia calvaruso e del presidente dell'associazione via sabrina tavolacci si svolgerà la visita guidata della chiesetta da parte di sognasta docente dell'università di pisa la serata sarà lietata da interventi musicali a cura di anna maria cerrutto e marina morana concludiamo qui queste edizioni di mtg grazie come sempre per averci seguito ritorniamo alle 20 e 30 il studio marco scavino grazie ancora buon pomeriggio a a a a a a a a Autore dei sovrapposti